Ciao a tutti, sono qua con Ferlo e anche con Mika e venite venite e loro hanno i loro inediti che sono su Spotify, su tutti altri, su YouTube, andate e ascoltate. Come, don't hide! Andate e ascoltate tutti i loro brani, c'è Quello Fire e c'è Tranquil che sono molto belli e sì perché adesso abbiamo bisogno di vostri ascolti come tutti gli altri concorrenti però noi anche. Va bene così? Ciao 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 ciao